Matteo Salvini, che cosa è successo a Milano? Uno sconcio, centinaia di persone che bivaccano in piena stazione centrale, il biglietto da visita della Milano dell'Expo sono sacchiapele coperte e sporcizia, bambini poveretti, anche loro, mezzi nudi, che raccattano roba da terra, questa non è accoglienza, non è integrazione, non è solidarietà, è un pessimo esempio sia per gli italiani che per questa povera agenda, quindi sospendere Mare Nostrum, investire in Africa questi soldi, bloccare gli sbarchi e smettere di spendere decine di milioni di euro per i clandestini quando ci sono italiani alla fame che non arrivano a fine mese.